Le segnalo, nella mia regione abbiamo appena messo 35 milioni di euro, in aggiunta ai 37 che arrivano dal governo, per le persone in povertà. Daremo altri 400 euro di assegno a quelle migliaia di persone che sono davvero andate in difficoltà. Però la differenza tra la nostra filosofia e la vostra, legittima certamente anche la vostra, ma diversa dalla nostra, è che noi alle persone non vogliamo dare un reddito. Vogliamo dargli un reddito nel momento in cui sono in difficoltà, ma vogliamo dargli un lavoro. Ma l'hai letta la nostra proposta? L'hai letta la proposta? La dignità delle persone? No, non è che ho letto le proposte, io le sto dicendo quello che abbiamo fatto. Ci sono le politiche attive nel nostro medio di cittadinanza. Oddio, sono state buone finora, dai. Ma perché deve mentire? Perché ha bisogno di mentire? Lezzi, tanto non sarete d'accordo mai. Allora, non vi date dei bugiardi l'un l'altro perché è un peccato. Guardi, è una questione oggettiva, nel nostro reddito di cittadinanza c'è la politica attiva. No, no, anche, è subordinata la politica attiva. Cioè, se non ti dai da fare per trovare lavoro lo perdi. Certo, se non fai salmazione. Ma no, ma dai. È reddito o non è reddito quello che stai dando? Non è reddito, è un sussidio. Stai dando 80 euro a una manciata di persone. Non stai risolvendo la povertà, Stefano, ma ti rendi conto, dai. Ma l'hai letta la nostra legge? L'hai letta? Le politiche attive per il lavoro, la formazione. Ma stai scherzando? Ma per piacere. Stefano, studia!